Mi hanno spaccato il lunotto di dietro, quando mi sono stato la mattina non avevo mai visto di buone che si era rotta, ma l'ho detto alla spazzina. Quando è accaduta questa cosa? Circa verso l'uno e mezza alle due e mezza. Questo è soltanto l'ultimo episodio avvenuto in ordine di tempo. Più volte ci siamo occupati di questa zona del centro storico, preda di danneggiamenti e schemazzi notturni concentrati durante il fine settimana. È un gran casotto. Fino a tardi? Fino a tre, quattro la mattina. Ma riuscite a dormire? Poco, 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 poco. I commercianti della zona sono resti a parlare ai nostri microfoni per paura di ritorsioni, dato che queste di fatto sono già avvenute. Non pochi hanno notato infatti che vetrine, garage, portoni spesso sono stati usati come urinatoi o oggetto di spregio con cospargimento di residui alimentari o altri materiali atti a sporcare e danneggiare. Ha vomitato qui, di là, da tutte le parti. Ho capito, ma è una situazione sempre più insostenibile? Sempre insostenibile, guardi. È una cosa tremenda. Sono esasperati i residenti, riuniti nel comitato spazio al centro, che più volte ha protestato per schemazzi e degrado. Il problema non è solo sociale, ma riguarda la sicurezza oltre che il decoro. Soprattutto adesso, dopo che sabato notte, l'auto in sosta a ridosso della piazza, di proprietà del gestore di un bed and breakfast, è stata gravemente danneggiata utilizzando un parapedoni, un paletto di ferro estraibile utilizzato per delimitare sede stradale dal passaggio pedonale. E credo che sia stato informato anche il prefetto e il pubblico ministero. Voi avete un bed and breakfast, qui vengono anche i medici che vengono a fare le cure. E poi fare le recensioni che non possono dormire perché alla mattina quando devono operare... Quindi è un danno anche per voi? È diutico, tutto discorso, tutto. Ma pensa che sia anche una ritorzione questo fatto del vetro spaccato? No, non credo. Quelli sono stati... Ragazzi, mezzo avevano bevuto e hanno cavato questi palletti così. Ha tirato sui cose e l'ha tirata la rotta perché la gente l'ha vista però non parla. Solo lei ha avuto questo danno? Per ora sì.